Savio, a Varano Melegari e Varsi. Tutto casa a Varsi. www.moranoleggi.com Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. AB Global Service, via Madonina 7, a Madregolo di Collecchio. Elettrotaro Fornovo. Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati per questa nuova edizione di TG Parmense in collaborazione con TG di RTA in questo martedì 29 marzo 2022. Anche questa sera, esattamente come ieri, partiamo e apriamo quindi il nostro telegiornale con la notizia di un incidente che poteva avere gravi conseguenze verificatosi lo scorso mercoledì sull'autostrada A1. Giuliano Capece ci racconta cosa è successo in questo servizio. Le immagini che vedete ce le ha fornito un cittadino di Borgotaro che ci ha raccontato che nella giornata di mercoledì scorso, mentre stava percorrendo l'autostrada A1, l'autostrada del Sole in località Campeggine, si è trovato in mezzo alla careggiata un estintore. Nel tentativo di evitarlo è andata a sbattere in maniera molto violenta. Così violenta, come vedete dalle immagini, che sono entrati in azione anche gli airbag. Ma ovviamente la macchina, come vedete, era pesantemente danneggiata. Danni anche al conducente che, nonostante le ferite non siano state particolarmente gravi, ha dovuto andare all'ospedale per fare accertamenti e probabilmente dovrebbe essere operato al setto nasale. Stupore per ciò che è accaduto da parte di questo signore, perché comunque, insomma, trovarsi un estintore in mezzo alla carreggiata della principale strada italiana è perlomeno preoccupante. Ovviamente ha fatto le segnalazioni a chi di dovere per capire come possa essere accaduto. Paolo Rampini viene riconfermato alla guida del gruppo Alpini di Borgotaro, con piena approvazione di tutti, sindaco compreso. Servizio di Giuliano Capece. Alla guida del gruppo Alpini di Borgotaro è stato confermato Paolo Rampini. In esito alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali avvenute nello scorso fine settimana, il gruppo Alpini di Borgotaro, il suo delizio locale, ha confermato. Paolo Rampini, capogruppo, ha rinnovato il consiglio. Il sindaco rivolge a Paolo l'intero consiglio uscente più sincero ringraziamento per l'impegno ed edizione mostrati in questi anni e un augurio di buon lavoro al nuovo consiglio appena insediato. Gli Alpini sono sempre stati al fianco dell'amministrazione comunale di tutta la comunità borgotarese, di recente anche in occasione dell'accoglienza in favore dei profughi ucraini. Utando le parole della preghiera degli Alpini, essi sono armati di fede e di amore nei confronti della nostra patria e delle nostre comunità e ne offrono testimonianza quotidiana. Grazie da parte delle cittadine e dei cittadini di Borgotaro, da parte dell'amministrazione comunale, firmato Marco Moglia, sindaco di Borgotaro. Ed ora un'interessante intervista all'assessore Alessandro Savi di Fornovo, dove viene annunciato il prossimo ottobre il ripristino del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, con la preziosa collaborazione dell'associazione Lasse, gestore peraltro della biblioteca comunale. Ecco come Fornovo riesce a responsabilizzare i giovani, facendoli sentire sempre più integrati e facendoli sentire anche più interagenti sul loro stesso territorio, contrastando quindi il fenomeno delle baby gang, nate soprattutto durante il periodo del lockdown scolastico. Servizio a cura di Cesare Groppi. Sì, nel 2021 per il nuovo bando di assegnazione della biblioteca, come giunta abbiamo voluto inserire fortemente tra i nuovi compiti per l'assegnatario che avrebbe vinto, che poi è risultato di essere la cooperativa Lasse in continuità con il passato, l'istituzione e la reistituzione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Quindi uno strumento che avremo in più ora come comunità, che grazie alla biblioteca, alla dottoressa Fadda, alla cooperativa Lasse, verrà fatto in collaborazione ovviamente con le scuole, sono già stati fatti i primi passaggi con la dirigenza e con il collegio docenti per iniziare il percorso che deve portare all'elezione del consiglio comunale dei ragazzi e dei ragazzi che vedrà l'elezione del sindaco o della sindaca dei più giovani di Fornovo. Questo non per un virtuosismo o per un passaggio fino a se stesso, il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è uno strumento di cittadinanza attiva, di educazione civica, di sensibilizzazione alla società. Io penso che oggi sia ancora più essenziale, perché vediamo negli ultimi tempi quanto, soprattutto dopo due anni di pandemia, i più piccoli, tutti quanti, ma anche i più piccoli, abbiano avuto difficoltà nel tornare a vivere insieme, seguire le regole e rispettarle. Si abusa molto del termine baby gang, criminalità dei più piccoli, soprattutto in questi ultimi mesi, anche il nostro comune è stato colpito. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze può essere uno di quei momenti in cui davvero come più grandi diamo il nostro contributo, andiamo il loro incontro per inserirli in una vita attiva nella società, quindi responsabilizzandoli ma anche ascoltandoli. Ci saranno temi fondamentali di cui parlare, di cui affrontare, loro si divideranno. Per così dire, i compiti in assessorati, sono molto contento che stia per partire, se tutto va bene, si arriverà all'elezione nell'autunno di quest'anno e voglio davvero ringraziare la dottoressa Falta che sta seguendo questo progetto per conto della cooperativa classe. In questa intervista che andiamo a proporvi abbiamo la testimonianza di chi si è prestato ad accogliere i profughi ucraini, il servizio di Giuliano Capece. Cosa le è andato queste persone che ha accolto, questi bambini e queste donne? Come le sono apparse? Come sono state? Come è stato il primo incontro? Il primo incontro, a parte che erano tutti parenti di mia moglie che io già conoscevo dall'Ucraina, per cui persone a cui ero già affezionato, il fatto di sapere che erano usciti dall'Ucraina, che erano o a Varsavia o a Bucharest, era già una gioia immensa e non vedevo l'ora che arrivassero. Un po' inconsapevole di tutto questo che dovevo poi fare, però va benissimo, la gioia è grande. Vedi questi bimbi che stanno rinascendo, i primi giorni erano terrorizzati solo dal passaggio di un aeroplanino turistico sopra il cielo, si buttavano sotto il tavolino, traumatizzati, senza più nessun riferimento, hanno abbandonato tutto là, sono scappati con due mutandine e un paio di scarpine dentro uno zainetto, le case, tutto quello che avevano i giochi, ma tutta la vita che hanno sempre avuto là. Arrivano da Nicolaio. È una delle città conquistate dai russi o no? No, arrivano da Nicolaio. Ah, ok. E una arriva da Zafarosa, che è quella città dove c'è quella centrale nucleare enorme, la più grande centrale nucleare d'Europa. Però erano già stati bombardati, avevano già iniziato le distruzioni, erano già iniziate, quindi terrorizzati, perché ci vedevano già i morti in giro, insomma c'è poco da fare. La guerra è sempre stata una cosa terribile e non è perché adesso siamo nel 2022 che possa cambiare le cose. L'intervista con un appello, a chi vuole fare un appello per aiutare i profughi che arriveranno, ma in genere cosa serve? Che appello vuole fare? E a chi? Ma io vorrei fare un appello un po' a tutte le istituzioni che operino prima, perché come tutti adesso dicono erano già otto anni che c'era una guerra in Ucraina. Io lo dicevo a tutti, infatti io sono otto anni che non andavo più in Ucraina, perché c'erano delle tensioni ai confini, per strada, nonostante che fosse una zona più sud di dove viviamo noi. Però si sentiva lo stesso, c'erano i carri armati in strada, i posti di blocco, anche durante questi otto anni che noi non ne abbiamo mai parlato praticamente, li abbiamo lasciati fare così, senza nessun intervento, per cui se vogliamo creare un mondo più giusto e più in pazza bisogna che si operino sempre per capire tutte le questioni che possono nascere, giuste o torte, però bisogna risolverle prima che scoprino queste cose. Parliamo ora di sport, il basket femminile, Valtarese torna a casa con una sconfitta, ma le ragazze sono già pronte per le prossime sfide. Giuliano Capece. Trasferta sfortunata per la Robi Profumi che esce sconfitta per 64 a 55 dal campo di Pesaro dopo una gara sempre in salita. La lunga trasferta in terra marchigiana è stata pagata a caro prezzo, soprattutto nel primo quarto dove le ragazze delle Robi Profumi hanno subito un parziale 21 a 10 che di fatto ha segnato l'esito della gara. Infatti negli altri tre quarti le due formazioni si sono equivalse, 20 a 20 il partiere del secondo quarto, 15 a 11 nel terzo e 8 a 15 nell'ultimo. Con quest'ultima sconfitta la Robi Profumi è stata agganciata proprio da Pesaro e da Porto San Giorgio anch'essa la prima vittoria di questa seconda fase a quota 2 in classifica. Fondamentale sarà la gara di sabato sera in quel di Porto San Giorgio che potrebbe segnare una svolta per il campionato della Robi Profumi. Nella gara disputata sabato a Pesaro ancora ottime le prove di Bozzi ed Ambrose ma troppo si è concesso offensivamente all'avversaria che sino alla gara contro la Robi aveva una media di 47 punti segnati per gara. Contro la squadra Valtarese sono stati ben 66 e questo dato si è rivelato decisivo nell'esito finale della gara. Per quanto riguarda il campionato Under 14 femminile della LM e rappresentanze sportive la gara contro Magic Parma ha visto la vittoria di quest'ultima formazione che si è in posta con un punteggio di 57 a 48. Ancora sport e questa volta invece si parla di un'importante occasione che coinvolgerà al bareto che ospiterà un importante evento sportivo di risonanza addirittura nazionale insieme ad altri cinque comuni infatti sarà sede del primo campionato Italian Pump Track Championships. Ecco i dettagli. Un'occasione probabilmente unica nel suo genere per far conoscere al meglio l'accoglienza della nostra valle un evento sportivo di rilevanza nazionale saranno infatti due giorni intensi il 23 e il 24 luglio per il comune di Albareto che ora figura tra i sei comuni sede del primo campionato Italian Pump Track Championships. Lo scopo far conoscere o riscoprire una disciplina nuova frutto dell'evoluzione della BMX uno sport sano all'aria aperta economico e soprattutto aggregante l'atmosfera del pubdock i rider che si confrontano su tecnica e trick un giro secco formula Red Bull Eliminator non solo per i pro ma anche per chi volesse semplicemente mettersi alla prova area a Tarolli apre le selezioni per la squadra sportiva e chiunque a partire dai 12 anni può semplicemente venire a provare la prova è gratuita senza impegno compreso noleggio bici e caschetto per la Pump Track ed i primi insegnamenti per prenotazioni rivolgersi al 329 21 44 535 numero attivo 7 giorni su 7 si festeggia anche nel calcio del nostro territorio in modo particolare il Solignano festeggia i 100 gol dell'attaccante Lecai servizio di Emanuele Berni 100 gol con la stessa maglia Elton Lecai entra in questa particolare categoria grazie alla rete segnata domenica contro l'Unione Calcio Casalese l'attaccante del Solignano ha toccato quota 100 reti segnate proprio con la squadra attualmente allenata da Gasparini tutte messe a segno interamente in prima categoria seppure il gol di domenica non abbia portato i tre punti alla sua squadra sconfitta poi 4 a 2 il giorno 27 marzo 2022 è sicuramente una data da segnare nel calendario per il centroavanti albanese sulla pagina ufficiale Instagram del Solignano sono arrivati anche i complimenti della società un doveroso riconoscimento si legge nel post al nostro bomber Elton Lecai che ha raggiunto quota 100 gol con la maglia del Solignano 1974 complimenti Toro la storia continua un commento che lascia inoltre presagire ad un futuro ancora lungo per l'attaccante con la maglia della società a cui è legato dopo che negli scorsi anni ha respinto avanze da numerose squadre anche di categorie superiori l'edizione di questa sera di Tg Parmense termina qui gentili telespettatori vi ricordiamo che potrete trovare ogni edizione del nostro telegiornale sulle pagine facebook di Tg Parmense parmense.net sulla piattaforma youtube di Tg Parmense oppure seguirci ogni giorno alle 19 e alle 19.30 sul canale 89 e per tutta quanta la regione Emilia-Romagna invece potrete seguirci alle 20.35 sul canale 80 di TV grazie per essere stati con noi buona continuazione di serata a domani con altre notizie del nostro territorio Savio a Varano Melegari e Varsi tutto casa a Varsi www.moranoleggi.com Valfair elettromeccanica automazione e impianti elettrici AB Global Service via Madonina 7 a Madregolo di Collegio Elettrotaro Fornovo www.moranoleggi.com